quanto è bello il tramonto eh questo è il backstage voi non state vedendo ma in realtà non state vedendo perché state ascoltando il podcast va bene ok allora direi che ci siamo seduti abbiamo nuotato adesso bisogna bisogna acquagliare bisogna acquagliare perché c'è una persona di fianco a me che è venuta a trovarmi dopo 6.900 chilometri che è partito da Londra ad aprile quindi siamo circa quanti tre mesi fa si quasi tre mesi e quindi partiamo allora faccio prima una piccola introduzione benvenuti sul mio podcast vi ricordo che potete riascoltare tutte le registrazioni tutte le interviste ai cicloturisti qui sul mio podcast ma potete anche vederle sul mio canale youtube Pietro Franzese su instagram mi trovate come pietrofranzese e anche pietrofranzese.com direi basta così abbiamo detto anche troppe robe troppe robe perché adesso dobbiamo introdurre l'ospite di questa intervista cicloturista con me qua c'è francesco h cicciorandagio ciao francesco ok noi adesso lo sciogliamo esatto voi non avete visto l'inchino se state ascoltando il podcast non avete visto l'inchino che vi ho appena fatto perché siete brutte persone dovete andare a vederlo anche su youtube ah francesco abbiamo detto 6900 km sei partito da londra parlaci un po' di te diciamo non c'è una scuola che ti insegna come si viaggia in bicicletta tu come hai iniziato eh io ho iniziato poi da lante un po' come fanno tutti no diciamo che la bici è stata qualcosa che ho sempre avuto dentro però non me ne ero mai accorto ci ho fatto un po' di tutto mountain bike scatto fisso ultimamente anche monosciclo e diciamo che cioè ce l'avevo sempre là davanti ai miei occhi però poi c'è stato quel giorno che ho detto vabbè con questa bici ci farò un viaggio ho iniziato prima con un piccolo viaggio in Sicilia perché tu sei siciliano si sente sì Caltagirone provincia di Galania un po' è incredibile grande sì sì e niente facciamo facevo tre lavori a Londra quindi ritmi assurdi poi un giorno ho preso questa bicicletta e sono partito ho messo su due volte cioè è proprio così dal nulla no vabbè ci sono un po' di preparazione sei mesi la dico un po' così facile però sì ci sono stati sei mesi di preparazione ho dovuto un po' sistemare le cose con il lavoro perché appunto erano tre cioè lasciare dei lavori e partire sì per questa cosa comunque è stata un'altra cosa tosta sì e come mai hai scelto di viaggiare in bicicletta voglio dire c'è l'aereo c'è la macchina c'è il treno perché è proprio la bici ebbè un po' ma secondo me condivido il pensiero di molti cicloviaggiatori che comunque è quel senso di libertà cioè ricordo ancora il mio primo giorno quando sono partito da Londra cioè io sono partito ho lasciato Londra abbassando dal Tower Bridge e iniziavo ad urlare iniziavo ad urlare tutti i ciclisti I'm going to Africa e mentre cioè nel frattempo c'era tutti i londinesi che comunque vanno lì a lavorare si muovono a casa a lavorare fanno solo quello e ero lì a scappare a partire per il mio sogno è una bella sensazione sì sì davvero un po' un pazzo che gridava I'm going to Africa ok pazzo e tra l'altro infatti la particolarità voi che lo seguite lo sapete questo podcast si chiama Unconventional travelers infatti ciccio ragazzi dopo magari vi faccio vedere qualche immagine ma magari la metto qua adesso cioè lui viaggia con pochissimi bagagli rispetto a quanto sono abituato io tra l'altro completamente in bikepacking e anche complimenti per l'attrezzatura perché è un'attrezzatura di tutto rispetto la bicicletta in carbonio questa è una cosa inusuale per un viaggiatore ma com'è che hai fatto a mettere insieme tutta questa attrezzatura cioè ti sei preparato hai fatto delle prove come te la sei giocata si è un po' studiata comunque pian piano questa bici è cresciuta è iniziata con le prime due borse quella da frame della sella si e poi pian piano è stata un'evoluzione anche un po' uno studio cioè un po' la ricerca che ne so della miglior tenda più leggera esatto perché tu tra l'altro fai tantissimo free camping eh sì 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 comunque è fondamentale se vuoi viaggiare con low budget comunque spendendo poco ecco esatto questa era un'altra domanda che ti avrei fatto un po' verso la fine perché è la domanda antipatica è la domanda che ti fanno sempre tutti che te la fanno sembra che ci sono preparati a me la fanno davvero tantissime persone che è tu quanto spendi perché sembra che se viaggi in bicicletta sei ricco sfondato sei pieno di soldi tu come sei messo? io diciamo che tutto quello che spendo lo spendo quasi circa l'80% tutto sul cibo ok e spendo circa 15-20 euro comunque mi mantengo molto buono sì low budget quindi come una giornata normale trascorsa vivendo una vita tra virgolette normale cioè la mattina cappuccina come da buon italiano sì 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 perfetto questa era un'altra cosa che ti avrei chiesto perché beh noi italiani ci piace mangiare cioè io quando sono all'estero e viaggio ogni tanto una pasta me la devo fare te come sms cioè che rapporto hai con la cucina quando sei in giro? la pasta quella sempre pure io eh esatto poi hai visto che hai un fornelletto apposta per cucinare sì metto l'alcol fornelletto accendo il gas comunque bello bellissimo infatti sono delle sensazioni bellissime anche che ne so il cappuccino e cornetto quello là ci vuole sempre sempre altrimenti la mattina non adesso che sei poi in Italia vabbè qua sul lago di Como magari non è proprio la cosa più speciale del mondo però è una cosa che ti ti mancava quando eri all'estero eh sì 6.000 km anche per avere un buon caffè sì esatto esatto perché tu hai attraversato abbiamo detto Londra poi hai fatto la Francia sempre sulla costa più o meno ho fatto tutta la costa europea quindi Francia Spagna Portogallo poi fino ad arrivare al Marocco e poi dal Marocco sono ritornato in Spagna del sud ho fatto tutta la parte dell'Almeria la Mursia bellissima quella parte sì sì tanta roba incredibile poi Francia del sud poi sono arrivato 20 miglia ho fatto un bel po' di Alpi eh c'è perché alla fine vado a cercare montagne ho fatto i primi pirenei sia a nord che a sud poi ho fatto l'Atlante del Marocco adesso mi sto divertendo qua nelle Alpi italiane incredibile ti piace un po' a casa mia è bello ti è piaciuto il lago esatto perché tu oggi hai fatto il lago io sono arrivato qua dopo lavoro ma tu hai fatto il giro del lago sì ho fatto il giro del lago bello ho incontrato un sacco di ciclisti incredibile se non fosse stato per i ciclisti avrei fatto molto meno ok e allora ti grazie esatto perché nel frattempo noi adesso andiamo a mangiare aspetta taglia questo taglia aspetta un attimo cioè voi mangiate poi tenetecela in caldo questo ovviamente non lo metteremo mai nessuno saprà che cosa succede cos'è c'è uno là che è ansimato allora invece io ti ho conosciuto attraverso Instagram o comunque attraverso i social dove tutti tendiamo a far vedere un po' la parte più bella di noi migliore di noi però c'è qualcosa che ti è capitato in questi tre mesi ormai che magari ti ha fatto un po' dubitare del tuo viaggio ti ha fatto dire quasi quasi adesso mollo c'è una cosa che non brutta che ti è capitata però che ti ha lasciato un po' così allora il quasi quasi adesso mollo mi è capitato all'inizio le prime settimane di viaggio che ho avuto un infortunio nel ginocchio che niente praticamente io utilizzo degli attacchi con degli attacchi al pedale quindi avevo la placchetta di questo attacco che era storto e dopo 100-120 km la gamba si bloccava diventava rigidissima e non si muoveva più non riuscivo più a piegarla e niente andavo dai dottori ospedali e mi dicevano di non usare la bici è un po' un problema se viaggio in bici e non capivano nemmeno loro quale fosse il problema perché comunque avevo sempre usato la bici e finché un giorno niente stavo sulla parte bassa del manubrio che si chiamano cioè vi chiamiamo drop in cerco ok sì sì e guardavo questa gamba che comunque rodava in maniera differente dell'altra e da lì ho scoperto il problema ho sistemato la tacchetta e poi pian piano dopo dieci giorni si riabilita di tutto cioè ma in quel momento comunque ho debutato di tutto perché comunque avevo lasciato il lavoro avevo lasciato quella parte sicura della vita per darmi a questa cosa un po' più incerta però alla fine alla fine hai trovato una soluzione quindi era la cosa giusta sì comunque sì continuare a pedalare per la fine le soluzioni escono esatto e quindi una cosa tra virgolette brutta poi si è trasformata in una conferma quindi raccontami adesso la cosa più bella che ti è capitata in viaggio o se hai magari un momento tra tutti questi tre mesi che hai detto starei a vedere questo panorama per sempre oppure vorrei rifare questa pedalata altre cento volte nella vita o una città bella che ti è piaciuta ma secondo me non c'è un vero e proprio momento bello secondo me il momento bello sono tutti i singoli giorni tutti i singoli chilometri comunque è un po' la vita un po' vivere la strada al pieno svegliarsi la mattina smontare rimontare la tenda e rivivere quella cosa comunque c'è una incredibile e tu la continueresti a vita questa cosa qua sì sì cioè vivere la vita la strada un po' in questa maniera cioè alla fine è emozionante certo farsi sorprendere ogni giorno della vita che comunque non sai mai chi incontri cioè oggi ho incontrato a Piero sì ogni giorno è sorprendente non puoi programmare niente cioè devi solamente viverlo e niente cioè non è difficile da spiegare no è bello questo però no è una bella sensazione quindi abbiamo detto che tu vuoi pedalare fino a casa quindi partito da Londra farai tutta la costa europea e torni arrivo giù in Sicilia sto un po' con i miei che comunque vivono ancora lì sì e poi un'altra volta a Sicilia Londra adesso vado quindi ritorno in bici sì sì no questo è uno scoop pazzesco quindi arriverai a il progetto di almeno 18-20 mila chilometri sì sui 12 mila sicuro ok ah no ok sì perché se fino a qua sono 6-9 perché adesso vado verso Livorno e poi faccio Corsica Sardegna e Sicilia ok che sono anche isole che non ho mai visto e poi risalgo per l'Italia intera poi Francia e ritorno verso Londra bello dai allora chiudiamo così fatti un po' di pubblicità approfittane dici dove ti possiamo seguire e così andiamo a vedere le tue foto e tra l'altro ragazzi il suo Strava fa paura fa paura sì io vado piano no comunque no cioè raga lui lui Tarella se vedete il mio Strava dite vabbè cioè buona media lui questo ragazzo spinge di bestia comunque scusa dici dove ti possiamo e ti dobbiamo seguire allora mi provate un po' ovunque come Cicciolandaggio su Instagram Strava ho una pagina su Facebook che si chiama Randaggio Bikepacking ok comunque li trovate tutti in descrizione sì sì e stayturner esatto esatto stayturner me l'ha un po' copiato perché io in realtà appunto Ciccio l'ho conosciuto sulle stories e adesso parlando un po' e ci siamo fatti una notata quindi è tutto un po' strano è tutto un po' così però quindi Ciccio grazie per essere stato qua nel podcast ricordo a tutti che mi trovate su YouTube su Instagram pietrofanzieri.com Telegram che non l'ho menzionato prima c'è anche un ebook che potete scaricare da Amazon però ci tenevo a far farla chiusa a Ciccio faccio un saluto in palerm no non in palermitano non in palermitano attenzione si dice arancino o arancina tra l'altro arancine sono sì sì io sono del sud sud ok perfetto abbiamo svelato l'arcano quindi faccio un saluto e niente ci rivediamo ci rivediamo sulla strada e su Instagram dai buona strada a tutti ciao figato tanta roba grande Ciccio però adesso mangiamo la pizza questa parte non la metto nel podcast e non la metto nel video grazie a tutti